C'era una volta un piccolo aquilotto destinato a diventare il capitano più vittorioso della storia della Lazio. Il suo nome è Alessandro Nesta. La sua storia è ricca di lazialità, la stessa che lo porta a vestire i colori bianco celesti quando era ancora un bambino e che gli permette di superare in breve tempo un brutto infortunio. Quando torna in campo ad attenderlo c'è la fascia di capitano e tutta una serie di trofei che ha l'onore di alzare al cielo. Il calcio sport ingrato lo porta lontano da Roma ma il suo cuore, lo sappiamo, rimarrà sempre colorato con i colori del cielo. Società Sportiva Lazio 1900, la squadra che ha portato il calcio a Roma.